La Guardia di Finanza di Salerno, con la collaborazione dei tecnici comunali e suddelega della Procura della Repubblica di Salerno, ha sottoposto a sequestro 55.000 metri di area di demanio idrico abusivamente occupata nel comune di Eboli. Oltre a sequestrare l'area, le fiamme gialle hanno denunciato il responsabile che dovrà rispondere dei reati di occupazione abusiva di demanio, danneggiamento e deturpamento ambientale. L'attività di indagine si inserisce in un contesto investigativo più ampio e pregnante, avente come finalità la tutela ambientale del territorio, che costituisce una delle priorità della Procura della Repubblica di Salerno.